Ciao Caterina, puoi spiegare alle tue guetanee come ci si fa il bidet e quante volte al giorno? E a che cosa devono stare attente? E poi ti spiego perché. Allora, da davanti a dietro? O dopo la cacca? Bravissima. A cosa devi stare attento? Mattina e sera, quindi due volte al giorno e dopo la cacca e dopo ogni volta che vi cambiate l'assorbente quando avete magari le mestruazioni. E poi che cosa bisogna stare attenti? Cioè come si lava? Quanti dietro? Sì, ma si trofina e si lava in mezzo alle... Non lo dico, non avete senso di dirlo. Alle pieghe? Eh, non avete senso di dirlo. Vabbè, dovete lavarvi in mezzo alle pieghe. Perché vi racconto questo? Perché in questa settimana in ambulatorio ho visitato un paio di ragazzine alle quali ho dovuto spiegare come ci si lavava. Perché avevano un po' di puzzicchia lì sotto e prendendo lo specchio ho mostrato loro quello che si era annidato in mezzo alle pieghe. Tra le grandi e le piccole labbra. Allora, è fondamentale lavarsi correttamente per evitare cattivi odori e infezioni. Continuate a seguirmi e utilizzate il cervello? Sempre.